mamma e papà vengono da storie diverse famiglie diverse esperienze diverse ed è quindi naturale che manifestino pensieri diversi circa l'educazione dei figli come gestire il disaccordo fra genitori per farlo divenire una risorsa anziché un limite sarebbe bellissimo pensare ad una mamma ed un papà perfettamente in accordo quando si tratta di fare delle scelte educative ma svegliamoci apriamo gli occhi da questo sogno d'occhi aperti non è proprio possibile e forse se noi adulti riuscissimo a gestire bene questa diversità potremmo trasformarla in una bella esperienza di vita in tanti anni di lavoro ho raccolto numerose storie familiari il disaccordo può riguardare il contenuto delle scelte come ad esempio la scelta di far uscire il figlio l'ora del rientro la scuola da frequentare se mandarlo al nido o chiamare una babysitter ancor più spesso il disaccordo interviene non tanto nel contenuto delle scelte quanto nei modi di relazionarsi coi bimbi e coi ragazzi c'è il genitore più morbido empatico condiscendente ed il genitore magari più duro autoritario ovviamente non è semplice trovare un modo per rispettare le diverse convinzioni e mantenere una genitorialità efficace basata sull'accettazione sulla libertà e nel contempo sul rispetto una missione quasi impossibile tuttavia siccome noi genitori a volte riusciamo ad essere anche dei valorosi eroi condividiamo qualche pensiero per avvicinarci a realizzare la nostra nobile impresa come gestire il disaccordo fra genitori nell'educazione dei figli cosa puoi fare quando non sei d'accordo con tuo marito o con tua moglie prima di passare qualche condivisione pedagogica ritengo doveroso fare un'importante puntualizzazione in questo contesto non parla assolutamente di quelle famiglie con un alto grado di conflittualità per le quali è necessario un percorso terapeutico specifico in questo podcast tratto di un normale disaccordo fra coniugi che hanno qualche pensiero diverso riguardo all'educazione dei figli ma che vivono in una famiglia dove vige prevalentemente una buona relazione basata sulla stima e sul rispetto quindi che fare in caso di disaccordo circa le scelte educative sui figli 1 accetta che il tuo partner abbia una convinzione diversa dalla tua ritengo che questo passaggio fondamentale serva per tenere sotto controllo la rabbia che potrebbe scaturire da un eventuale contrasto spesso ci capita di interpretare il diverso punto di vista del nostro partner come un'offesa personale come un affronto mi offende quando dice questo non mi rispetta quando mi da torto non mi appoggio di proposito per farmi un dispetto in realtà è molto più facile che il nostro partner sia in disaccordo con noi semplicemente perché è stato cresciuto diversamente ha fatto esperienze diverse ha sviluppato altre convenzioni crede in alcuni valori differenti dai nostri e magari queste diversità ci hanno fatto innamorare sono state una risorsa per la nostra unione ci hanno affascinato quando l'abbiamo conosciuto quindi quando ti trovi in disaccordo con lui esercita il pensiero del tipo ci sta è naturale che la pensi in maniera diversa due valuta bene l'argomento del disaccordo una volta accettato il fatto che una diversa visione delle cose è sana e naturale valuta bene l'argomento del contrasto perché non tutti hanno lo stesso significato se tu pensi che sia meglio far rincasare tuo figlio alle 10 mentre il partner sostiene che non si possa andare oltre alle 21 e 30 ha un significato se tu pensi che tuo figlio va educato nel rispetto mentre il tuo partner decide che urla e sculaccioni sono più efficaci ha un peso diverso nel primo caso una bella chiacchierata un po di reciproca flessibilità qualche buon compromesso potrebbe facilmente risolvere la situazione il secondo caso è un pochino più complesso quando la diversità riguarda stili educativi così agli antipodi la soluzione più efficace è 3 informatevi rivolgetevi ad un consulente esterno che vi permetta di aggiungere informazioni alle vostre convinzioni quando si parla di orario del rientro non c'è una scelta giusta e una sbagliata è solo una scelta che diventa vincente quanto più riesce a tener conto dei fattori contestuali decidere di urlare piuttosto che parlare decidere di utilizzare metodi forti piuttosto che una ferma e gentile autorevolezza non è solo una scelta personale ha delle conseguenze tangibili sulla crescita dei figli in tal caso sarebbe opportuno raccogliere nuove informazioni cercare un esperto che sia in grado di condividere con voi delle nozioni pedagogiche che vi permetta di prendere delle decisioni più consapevoli 4 concentratevi sul modo in cui gestire la diversità non sul contenuto della diversità questo è forse l'aspetto più importante più educativo per i vostri figli per loro non è tanto importante vedere mamma e papà sempre in perfetto accordo quanto vedere come risolvono il contrasto delle loro posizioni questo è il passaggio principale quando i nostri figli passeranno molto tempo fuori casa quando le relazioni con l'esterno diventeranno sempre più numerose si troveranno spesso a doversi relazionare con persone che la penseranno in modo diverso da loro e a quel punto cosa desiderate che facciano che subiscano passivamente l'arroganza dell'altro che usino tutta la loro energia per far cambiare per forza idea le altre persone o che accettino la diversità dove è possibile trovino un accordo dove non è possibile capiscano che entrambi i punti di vista abbiano la loro ragione di esistere e magari in alcuni casi mettono in discussione le loro convenzioni e raccolgano ulteriori informazioni per rimodellare le loro scelte in modo più consapevole e competente io penso fermamente che il contrasto fra diversi punti di vista sia inevitabile se non addirittura arricchente permette di rendere il nostro pensiero più ricco e più flessibile purché venga gestito con una comunicazione basata sul rispetto penso che mamma e papà non debbano essere sempre in accordo fra loro penso che sia utile che manifestino le loro diversità e ritengo fondamentale che sappiano confrontarsi nel modo in cui desiderano che il loro figlio affronti il mondo come ci siamo detti in altri podcast diventa il modello per tuo figlio il contrasto è fondamentale per la sua crescita fargli vedere come viverlo e come gestirlo è la migliore scuola per la sua vita quando tuo figlio impara a gestire le relazioni anche nei momenti del contrasto del conflitto possiede già una delle competenze più importanti per la sua vita quindi in questo quarto consiglio vi suggerisco caldamente di imparare a gestire contrasti e conflitti nel rispetto come sempre non si tratta di comportamenti facili ma si possono imparare una volta imparati possiamo insegnare ai nostri figli non è possibile evitare le diversità è assurdo cercare la ragione assoluta è deleterio cercare di avere sempre ragione l'unica via è una consapevole gestione del conflitto che utilizzi la parte neocorticale del cervello intenzione e razionalità e non solo la parte sottocorticale istinti ed emozioni la gestione del conflitto sarà sicuramente un argomento dei nostri prossimi podcast 5 parlate a vostro figlio facendo a vedere come possono coesistere le diversità nel rispetto per la mamma qualche volta si può accendere la televisione durante la cena per il papà assolutamente no appena il padre si assenta per un paio di giorni da casa la mamma dice a febba i pargoni evviva questa sera festa pizza e film seduti sul tappeto davanti alla tv con vostro padre non è proprio possibile farlo altrimenti si mette a rompere approfittiamo del fatto che non ci sia e via festa questa sera benché il senso del discorso sia assolutamente comprensibile temo che non sia propriamente rispettoso nei confronti del papà i bimbi potrebbero imparare due o tre cosine poco utili del tipo quando il controllo va via possiamo fare le nostre scelte alle spalle quando una persona non c'è possiamo liberamente ridicolizzarla ha ragione la mamma il papà è proprio un rompiscatole coalizziamoci contro un componente della famiglia nulla di grave ma rischiamo di creare una situazione un pochino antipatica dove il contrasto prende la forma del te la faccio dietro alle spalle un'altra modalità potrebbe essere ok ragazzi questa sera il papà non c'è sapete quanto sia importante per lui mangiare a tavola senza tv è l'unico momento in cui vi vede e ha una gran voglia di fare due chiacchiere con voi è proprio un bravo papà noi invece non abbiamo necessariamente bisogno di confrontarci a cena visto che abbiamo a disposizione altri momenti della giornata quindi possiamo permetterci di sgarrare e guardarci un bel film mentre mangiamo che ne dite vedete come cambia il senso delle cose mostro mio figlio che i diversi punti di vista nascono da diverse esigenze che ci si può capire accettare rispettare e che contemporaneamente possa far coesistere nella vita quotidiana situazioni diverse mantenendo una relazione di rispetto un altro esempio la mamma vuole aiutare il figlio con i compiti il papà desidera educarlo nell'autonomia o i due genitori riescono a raccogliere informazioni in merito e riescono a trovare una modalità unica di approccio ai compiti o mantengono le due diverse posizioni facendo vedere al figlio che entrambe hanno un loro significato modalità in cui il contrasto diventa un problema educativo adesso sei qui con me e non con tua madre che non fa altro che viziarti quindi arrangiati a fare i compiti e se non vuoi te la vedi domani con la maestra sei un'incompetente grazie a tua madre che non ti fa neppure andare in bagno da solo modalità in cui la diversità diventa uno spunto educativo interessante lo sai che io e mamma abbiamo un approccio diverso per i compiti lei desidera che vengano fatti alla perfezione e quindi ti sta accanto con lei puoi imparare come eseguire le consegne nel migliore dei modi io invece ci tengo di più che tu li facci in autonomia magari fai qualche errore in più ma impari a gestirli da solo con me impari a fare questo con una semplice frase insegna mio figlio che non esiste necessariamente un unico approccio corretto che spesso una scelta è utile per certi aspetti ma ha dei limiti sotto altri aspetti che imparando ad accettare con flessibilità punti di vista diversi puoi godere di più vantaggi che non è necessario pensare allo stesso modo per andare d'accordo volersi bene e portarsi rispetto insomma non è necessario essere sempre in accordo per i figli se noi genitori sappiamo gestire bene i diversi punti di vista e si diventano una risorsa educativa molto interessante se ti piace rimanere informato sui contenuti pedagogici iscriviti al canale youtube ricordando di attivare la campanellina puoi ricevere anche dei podcast personalizzati solo per te che rispondano in modo approfondito a domande specifiche sulla tua situazione personale entra nel sito rispostepedagogiche.it vai alla sezione prodotti e cerca il servizio audio risposta prossimo episodio